Allora, parliamo di quello che è successo, che avete letto probabilmente in settimana su qualunque sito, insomma dappertutto, sul web, e cioè il caso di Enrico Montesano. Allora, non ne abbiamo mai parlato noi del programma e adesso sono qui proprio per fare il punto della situazione, anche se io non voglio affatto ripercorrere tutta quanta la storia, ma voglio arrivare a questa sera. E intanto chiedo ad Alessandra di venire in pista vicino a me e poi vi spiegherò anche il perché, soprattutto perché Alessandra è metà di questa coppia e nel nostro mondo non c'è solamente Enrico, ma per noi è Enrico ed Alessandra sempre. Allora, questa sera non avete visto Enrico Montesano tra le nostre coppie. La RAI ha deciso di sospendere Enrico dalla competizione per un comportamento giudicato inaccettabile secondo proprio le regole dell'azienda e secondo anche quei principi che regolano i principi ispiratori del mandato di servizio pubblico della nostra azienda. Questa, come vi ho appena detto, è la nostra azienda, è la mia RAI, è la RAI che noi tutti amiamo e quindi qualunque decisione la RAI prenda, noi ci uniformiamo alle decisioni della RAI perché sono prese e insomma ha ragion veduta. Detto questo, chiaramente poi c'è anche il lato umano. Allora io come direttore artistico di questo programma chiaramente sono dispiaciuta di non vedere Enrico ed Alessandra su questa pista perché il loro contributo artistico è un contributo importante e hanno sempre fatto delle cose meravigliose. Sono poi umanamente dispiaciuta per l'assenza di Enrico. Enrico ha detto che lui a sua volta si dispiace di tutto quello che è successo, si dispiace se questa cosa, se quello che è capitato ha offeso gli spettatori a casa e se ne scusa con tutti. E diciamo io credo alla sua buona fede perché anche sentendolo in questi giorni me l'ha sempre detto in modo accorato. E adesso veniamo a noi perché poi dopo c'è il nostro mondo che ha circondato quello che è capitato, che circonda i concorrenti, tutti quanti. Allora noi siamo una squadra formata in realtà da due entità. C'è il gruppo RAI e c'è il gruppo Ballandi. Ma non siamo due gruppi, noi siamo una sola famiglia e non lo dico per retorica. Io vorrei accanto a me, scusate, dove sta Roberto? Roberto dove sei? Vieni, vieni, vieni Roberto perché tu rappresenti tutto il gruppo RAI. Perché c'è una squadra RAI che è fatta, Roberto è il nostro stage manager, la persona che regola tutto il giro. Ma qui ci sono i nostri ragazzi, gli attrezzisti, i cameraman, c'è Luca Alcini con tutte le squadre tecniche. C'è la RAI, c'è Ballandi con la redazione, la produzione, il cast artistico. Siamo una sola famiglia unita. Questa sola famiglia unita che qui ne ha passate tante e veramente ve lo dico, anche se a voi non deve arrivare niente, voi dovete solamente divertirvi, però c'è un dietro le quinte che spesso è molto impegnativo. È una famiglia di persone per bene, di persone che hanno un grande rispetto reciproco e hanno soprattutto un grande rispetto di voi a casa, veramente profondamente. Soprattutto perché il rispetto del pubblico è nel DNA della RAI. Quindi non è pensabile che noi da questa pista vogliamo offendere qualcuno a casa. Non è pensabile, non è concepibile, non è nel nostro modo di essere. Se per caso questo è successo, io ne chiedo scusa a nome di tutti quanti perché veramente non è una cosa che nessuno di noi abbia neanche lontanamente pensato di fare. Quindi grazie.